Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, non mi sono dimenticato dell'Afghanistan, anzi in queste settimane ho accumulato articoli, reportage di giornalisti sul campo per tornare ad informarvi, a proporvi una selezione appunto di notizie. E sul manifesto di sabato, sul manifesto di sabato 13 novembre, vi è un bel reportage di Giuliano Battiston proprio da Ghazni e ci racconta una storia terribile tra le tante storie terribili dell'Afghanistan, oggi parlo di Afghanistan, poi so che ci sono tante altre storie di violenza in tante altre parti del mondo, compresa nella nostra Italia, però in questo video parlo appunto di Afghanistan. Spalti gremiti allo stadio della città di Ghazni per assistere alla giustizia, tra virgolette, dei talebani, che riprende il suo corso. Questo è un reportage dal capoluogo proprio dell'omonima provincia afghana. È tornata la frusta. C'è un gran trambusto fuori dallo stadio di calcio di Ghazni, capoluogo dell'omonima provincia afghana, slungo la rotta che da Kabul, 140 chilometri più a nord, porta a Khandar, 350 più a sud. Lo stadio è appena fuori città, sull'altro lato della strada, rispetto ai due minaretti a pianta stellare del XII secolo, ciò che rimane della moschea di Bam Rashah. I minaretti svettano solitari. Lo stadio sulla strada che conduce all'università statale è ancora chiusa e accerchiata da auto, pick up, motorette a tre ruote, motorini e biciclette. Gruppi talebani restano all'esterno, scherzano, giacche militari, bandiere sventolanti, barbe lunghe, alcuni bambini allungano il collo da una collinetta. Gli spettatori sono tanti, sono tanti, tra i due e i 300 almeno. Tutti uomini vengono anche dai distretti più lontani. L'occasione è speciale, è speciale. Per la prima volta quando i talebani sono tornati al potere, nello stadio di Ghazni si fa giustizia. Si tratta di due uomini trovati in città a fare atti sessuali e pertanto sono giustamente puniti, sostiene un signore. Vive in città, racconta che i talebani nei giorni scorsi hanno annunciato l'esibizione tramite altoparlanti piazzati sull'automobile. Io l'ho già saputo alla moschea, spiega un ragazzo venuto dal distro di Handar. Se sono colpevoli è giusto punirli. Un altro uomo si lamenta invece. È arrivato in ritardo, volevo vedere. Non è riuscito ad assistere alla punizione. Frustate. Quando tutto è finito, intorno allo stadio si alza un gran polverone. Ciascuno torna a casa a raccontare che è tornata la giustizia talebana, di cui però non deve esserci traccia materiale. All'interno dello stadio non sono ammessi telefoni, macchine fotografiche, videocamere, giornalisti. Gli abitanti di Ghazni è bene che lo sappiano. Fuori, meglio di no. Non è certo che la notizia non possiamo darla, spiega Mohamed. Nome che il giornalista dicesse di fantasia. Un giornalista di Ghazni con dieci anni di esperienza. Qui ormai siamo rimasti pochi. Giornalisti delle agenzie internazionali, collaboratori della BBC, della TV iraniana, sono andati via da un bel pezzo, qualcun altro è stato evacuato, altri sono in Irano e in Pakistan, quanto noi siamo a ranghi ormai ridotti. Nell'ente per cui lavora Mohamed, ripeto nome di fantasia, prima c'erano 25, 3 giornalisti e tecnici, ora siamo in 6, le colleghe tutte a casa. I limiti sono autoimposti, perché il potere ti porta ad avere una paura tale per cui tu ti imponi degli autolimiti. sai cosa puoi e non devi fare, interiorizzi a partire dalla paura, il limite e dunque sai come muoverti per sopravvivere, sei quello che devi e quello che non devi fare. Sapevo bene quello che possiamo, non possiamo dire via la musica dei palinsesti, via i programmi politici, quanto le notizie niente contro i talebani ovviamente. Con il loro arrivo a Ghazni, Mohamed è scappato a Kabul per tornare dopo dieci giorni, sono preoccupato della situazione. Certo, lavorare così è difficile, ma che fare? Dobbiamo conviverci. Affinché il patto di convivenza fosse chiaro, il responsabile del Dipartimento per l'informazione della cultura, il Mullah Abidullah Majid, ha convocato tutti i responsabili del media della città. Non appena si è insediato ci ha detto che avremmo dovuto cooperare e sostenere l'emirato arabo, l'emirato talebano, l'emirato talebano. Eccoci qua, dunque, è Ghaz la città straordinariamente ricca di storia, la repubblica però talebana islamica del nuovo emirato è appunto un... sì, perché poi gli arabi sono pochi, qua parliamo di Pashtun, sono tante altre le tribù, dunque parliamo di emirato talebano, che è importante. Le virtù dell'emirato vengono mostrate con quei viaggi costruiti ad hoc per i giornalisti, le biblioteche con libri anche ora in inglese, composti per gli studenti e l'emirato però sta pubblicando nuovi libri, ne sta accantonando degli altri, c'è dunque il Ministero della Cultura, quello che però controlla e plasma la cultura. Gli studenti sono sempre di meno, le classi sono svuotate, i libri di medicina sono molto costosi e sono introvabili. Molti ragazzi sperano di poter andare all'estero, ci sono studenti e studentesse che sognavano di fare i medici, i chirurghi, però tutto ciò non è stato possibile e dunque col sogno infranto, il sogno infranto. È la macchina dei talebani questa, è la macchina di morte dei talebani. È la macchina però che è stata accettata, lo sapete, dalle potenze occidentali, perché? Perché intorno al potere dei talebani ci sono delle trattative, prevale poi il realismo politico, la realpolitik tanto cara, no? È il leader della storia, da Richelieu, Mazzarino, a premere la Francia, a Bismarck o ad altri uomini della realpolitik nella storia. La realpolitik si fanno trattative, si tratta con i talebani, ovviamente sotto i talebani sono le persone comuni, i cittadini come noi, i cittadini con le loro prospettive di vita, con le loro sogno infranto. Lo sapete benissimo, poi c'è il consenso, il giornalista mi piace, ha fatto un servizio ottimo perché ha mostrato il consenso, uomini che arrivano dalla provincia, uomini che arrivano dalle campagne per assistere alla giustizia. Se la sono cercata da quei due ragazzi con degli atti osceni, con degli atti sessuali immorali e dunque quella è la frusta di Allah, la frusta che punisce, la frusta della giustizia talebana.